Tra le tante star dell'alpinismo internazionale che hanno partecipato al Festival della Montagna dell'Aquila, un volto noto, Giampaolo Gioia, che con due vittoriose spedizioni in Himalaya ha riportato l'alpinismo abruzzese nel panorama mondiale. Nell'auditorium del castello, con immagini e parole, ha fatto rivivere le emozioni provate dove l'aria è più rarefatta. Belle esperienze, partendo già dagli anni 90 dove sono stato in Kirghizia per scalare delle montagne, due bei 7 mila in terra di Russia, in Kirghizia e in Kazakistan. Nel 2001 l'idea di scalare il Cioio, una montagna di 8.201 metri che sono riuscito a scalarla da solo negli ultimi mille metri. Poi nel 2004 sono stato invitato in una spedizione all'Everest, nel versante nord.